Siamo con Antonio Marini, massimo dirigente del Montorio, a poche ore dalla sfida contro lo Sportland Celano. Presidente, che gare si aspetta? Io non mi aspetto solo di vincere e basta. Noi non possiamo più lasciare punti per strada. Noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo che c'eravamo posto a inizio anno, per cui non possiamo perdere punti per strada. L'avversario si chiami Sportland Celano o si chiami in un altro modo, per noi non deve fare differenza. La sua squadra viene dal brillante successo per 4-2 sul campo del Mutignano. Quindi il tecnico di Luigi, come si dice in gergo, ha trovato la quadra. Ha trovato la quadra. La quadra non la trovi quando perdi, la trovi quando vinci. La quadra ci dovrebbe stare sempre. Non è che una domenica c'è, una domenica non c'è. Noi domenica abbiamo vinto bene a Mutignano, anche se, ripeto, il primo quarto d'ora è stato un quarto d'ora da incubo totale. Quindi la mia squadra purtroppo soffre di alti e bassi, gioca dieci partite all'interno della stessa partita. Quindi è imprevedibile. Sotto l'ala protettrice del presidente Marini però tutto diventa più semplice. Beh, no, io ho giocato tanti anni a pallone, ma è qualche mese che non gioco più, per cui se se la risolvono da soli è bene. Io non gliela posso risolvere da... Io sto fuori, quindi non gliela posso risolvere da lì in mezzo al campo. Ci devono pensare loro. In bocca al lupo. Crepe il lupo, grazie. Grazie. Grazie.